va bene buonasera a tutti carissimi bentornati nel nostro spazio del lunedì sera appunto la notte dei frati allora questa sera come dicevo prima di partire con la registrazione vorrei leggervi una bella domanda condivisione che credo accomuni molti di noi la sentiamo un po' tutti questa cosa in un certo modo riassume molti confronti colloqui che ho avuto negli ultimi giorni e anche scambi di mail la trovo veramente azzeccata bella sentita e significativa allora un'amica ha scritto ciao pierluigi ciò che sta accadendo nel mondo mi impedisce di procedere nel cammino spirituale sono addolorata sento una specie di impulso a fare qualcosa ad aiutare ad agire affermare questa follia ma 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 non trovo alcuna via d'uscita non trovo nulla che possa fare e così cado nella tristezza nella frustrazione nel senso di impotenza oggi meditare riflettere cercare cercare strade spirituali cercare di godermi la vita tutto ciò mi sembra addirittura un'azione egoistica e inutile se non dannosa ma forse sono solo molto depressa e mi sto sbagliando tu cosa ne pensi allora la risposta è dentro di te ma è sbagliata no la risposta è dentro di te ma è giusta la domanda è dentro di te ed è legittima è veramente una cosa che credo in alcuni momenti sentiamo tutti noi un senso di impotenza di sconforto e anche questa sensazione di voler agire fare qualcosa come l'abbiamo sentita questa cosa in maniera molto forte almeno io l'ho sentito sono certo anche voi nei tre anni pandemici di avvisare chi ci stava accanto che qualcosa non tornava di stare attenti di non scivolare nell'odio la discriminazione la frammentazione sociale che abbiamo visto certi soggetti hanno portato avanti magistralmente io direi non tanto magistralmente è solo che avevano una grande potenza di fuoco messi tutti assieme perché presi individualmente erano il nulla assoluto e poi dall'altra parte diciamo che c'era anche sapete come dice il detto adesso mark twain forse erano non mi ricordo esattamente ma quando il sole della cultura della coscienza è basso anche i nani sembrano giganti e c'è anche il rovescio della medaglia quando il sole della coscienza della cultura è basso anche gli stupidini riescono a fare grandi danni giusto allora chi di noi non ha sentito in quei soprattutto il primo secondo anno un impulso a gridare fuori dai balconi altro che cos'è che gridavano andrà tutto bene no gridare e guardate che ci stanno dicendo tante cose non corrette e adesso è continua la stessa cosa stiamo vedendo delle immagini per chi si informa un po per chi si muove al di là di rai 1 e rai 2 stiamo vedendo una serie di immagini drammatiche arrivare dal medio oriente sentiamo discorsi allucinanti da parte delle massime cariche istituzionali dagli stati uniti sino a al parlamento europeo alla presidenza del parlamento in italia e quindi capisco questa sensazione però 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 la prima cosa che vorrei dire all'amica che ha scritto che ha condiviso questo questo dolore questo sconforto la prima cosa è che mi viene in mente un detto vado parafrasando che dice è quando viene la notte che capiamo se abbiamo una lanterna accesa nella nostra casa cioè è solo quando viene la notte quando viene la difficoltà la prova il buio che capiamo se siamo divenuti una luce per noi stessi se è sempre giorno ragazzi cioè se abbiamo una situazione intorno a noi tutto sommato discreta positiva quando è che ci confrontiamo con chi realmente siamo con il livello di coscienza che realmente abbiamo raggiunto cioè è un po come il capitano di una nave a quello è un grandissimo un pilota di un aereo quello un grandissimo pilota e l'aereo è fermo sulla pista di decollo cioè lo posso guidare anch'io potrei essere anch'io a quel punto un grande pilota sto lì dentro mi metto non lo so se è un bella chance taricaccia e gli aerei da guerra mi metto la il vestitino da pilota daerei e quindi in realtà le sfide le prove sono estremamente importanti per verificare come come stiamo dentro di noi è vero non è necessario scatenare la terza guerra mondiale per capire se siamo centrati se stiamo progredendo camminando però ci tengo sempre a ricordare soprattutto oggi che molti di noi sprofondano nella mail ma prodotta dall'informazione e dalla politica folle perché non è solo disinformazione ma ci sono anche dei fatti veramente incredibili e ci tengo a ricordare che però al di là degli eventi sociali che tanto spaventano nella nostra vita arriveranno sono già arrivati e sono inevitabili dei momenti critici non necessariamente causati dalla bce e dai bombardamenti ma perché la nostra moglie cambia compagna marito quello che volete cambia idea e restiamo lì col cerino in mano adesso non voglio però persone che subiscono tradimenti e soffrono moltissimo se ne accorgono dopo di aver proiettato molto di essere state in un certo senso ingannate malattia perdita morte queste cose non necessariamente sono imputabili alla responsabilità umana che fa ancor più arrabbiare lo capisco questo una guerra una guerra le stupidaggini in mani che sentiamo tutti i giorni uscire dalla bocca dei politici secondo me ci fanno arrabbiare ancor di più perché pensiamo che ci sia un minimo potenziale lume di ragione a differenza della malattia la morte o un cataclisma naturale che in un certo senso ci porta ad un'accettazione quasi dovuta però al di là di tutto ciò ci sono dei fatti inevitabili che ci chiedono ad essere affrontati in un certo modo e di indagare la vita di rifletterla di capire noi che relazione abbiamo con le cose del mondo e con noi stessi questo vorrei semplicemente dire quindi il viaggio spirituale la conoscenza di una dimensione diciamo che va al di là dei fenomeni più periferici è proprio ora che ha il suo massimo valore è proprio ora che trova il massimo significato quindi quando dici aspetta che mi sono perso il foglio quando dici oggi meditare riflettere cercare di godermi la vita sembra nazioni egoistiche occhio perché in realtà secondo me il nostro ego che è stato agganciato ingannato per quello ho intitolato questa serata il male del mondo è una fregatura perché ci frega c'è ti attiva non so se vi è mai capitato quando eravamo ragazzini noi maschietti di sicuro ma credo anche le ragazzine quando due litigavano uno era un nostro amico o l'altro ci stava antipatico e magari alzavano le mani spesse volte finiva in una sorta di zuffa generale perché le due che combattevano erano magnetici o comunque si agitavano tutti noi un po come nel pollaio la guerra fa questo effetto sino a quando siamo dentro al a quella quel legame al corpo alla struttura egoica che ci tiene molto estroversi quindi quando là fuori succede qualcosa ne siamo tanto magnetizzati e quindi ci viene voglia questa gran voglia di fare 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 ma come hai detto tu come ha detto l'amica come molte volte sentiamo questo agire che ci hanno anche tanto insegnato fai qualcosa no una mente vuota è la fucina del demonio no una mente piena di cazzate la fucina del demonio sentite quante cazzate dicono una mente vuota è la casa di dio una mente vuota è piena di pace allora tutto questo fare in realtà proprio perché siamo estremamente impotenti sulle grandi cose che succedono nel mondo ma anche le grandi malattie che succedono nel nostro piccolo mondo se è seria non ti salva nessuno poi con la sanità che c'è oggi solo a qualche paura ti viene comunque e quindi quando dici soprattutto godermi la vita ti se mi sembra una cosa egoistica ecco utilizziamo utilizziamo un'altra parola che questo godere sembra un po uscito da non lo so la società smart cool e trendy ci godiamo la vita mi sembra di essere un po con la ferraglia lì le ferraglie mettiamo un altro termine invece di goderci la vita riuscire ad essere equilibrati equanimi di fronte ai agli sballottamenti delle cose essere pacifici capaci di essere amorevoli con le persone che abbiamo accanto non non ti pare non ci pare che sia la cosa più importante fra tutte in un momento di difficoltà dove magari i nostri figli attraverso tre anni di lockdown e mascherine digitale come è che la chiamavano dad sono praticamente esauriti figlio esaurito genitore esaurito e facciamo un bel esaurimento generale quindi io credo che il riuscire a proprio vedere come il male la cattiveria la violenza la stupidità ci attirino e vedere la 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 il circolo vizioso che si genera l'insensatezza di questo desiderio di fare anzi questo desiderio di fare vederlo parte del problema è fondamentale per iniziare a rimanere nel qui ed ora in quello spazio dove possiamo costruire l'unico spazio possibile qui ed ora unico spazio e tempo possibile dove abbiamo la gestione il controllo della nostro fare davvero qualcosa di contrario in un certo senso alla distruzione al male se nel tuo lavoro se una persona amorevole umile onesta stai facendo la cosa più grande che ci sia se nelle tue relazioni porti pace quando c'è tempesta ma se ci astraiamo iniziamo a pensare i giganteschi problemi e allora iniziamo a perdere quell'entità reale di costruzione di pace che noi siamo poi chiudo mi permetto una cosa mi permetto di dire una cosa il fatto che leggevo in questi giorni le chiese sono completamente vuote nessuno crede più in dio bergoglio praticamente sta in uno stato confusionale che quasi quasi è meglio di quando un po troppo lucido perché in quel caso di tutto ciò per certi versi è veramente disperante perché perché a livello collettivo un tempo comunque c'era l'idea che raccogliersi e pregare attivasse un qualcosa vi ricordate la concezione vecchia meccanica per certi versi anche cristiana o comunque delle religioni monoteiste la concezione meccanica era se io invoco dio dio in qualche modo interviene perché la mia supplica muove il cuore di dio ora capita che senza dover fare grandi speculazioni filosofiche comunque per quanto uno non avesse maturato una grande spiritualità o avesse un concetto piuttosto se non semplice una bella parola un po grezzo del divino del sacro della spiritualità il fatto che milioni di persone di fronte alla violenza la guerra all'odio dentro la loro psiche il loro cuore avessero l'idea che bisogna prega bisogna fermarsi e pregare beh solo a dirvela così credo che si intuisca il valore comunque qualcosa di buono e potente può succedere se milioni di persone fanno questa cosa a differenza d'oggi che si agitano si schierano ogni volta si schierano e fanno bianchi neri guelfi chibellini non credono in nulla quindi o o astraggono ogni cosa la rimuovono come se tutto tutto andrà bene giusto quindi o rimuovono tutto o tra un po si danno alla jihad o partono coi soldati della nato capite che quell'idea di rimani qui ed ora e contatta il divino è in sé a prescindere dall'esistenza o meno di dio un suggerimento geniale credi meno alle schifezze che ti dicono ti raccogli più in te stesso cerchi di costruire pace questa cosa è completamente no completamente no però è andata in secondo piano quindi io credo che la dobbiamo riportare al centro magari con un significato un po più capace di attecchire oggi anche nei giovani cioè voglio dire ragazzi c'è gente che oggi è fanatica del 5g il 6g la nuova grande tecnologia cambierà il mondo eccetera ok noi abbiamo delle trasmissioni di dati ultra veloci ad una velocità pazzesca che vanno da una parte all'altra del mondo attraverso delle antennine il 99,9 periodico delle persone non sa tutto ciò come funziona non sa come funziona questa cosa però la utilizza fruisce di questi sistemi quando gli spieghi che c'è una trasmissione di dati attraverso onde radio e onde elettromagnetiche o avevamo i cavi fibra crede cioè sostanzialmente crede al meccanismo ora è interessante vedere come se tu suggerisci anche a persone più giovani meno giovani di comprendere l'essere umano e magari iniziare ad intuire che l'essere umano ha una capacità di trasmissione in una coscienza collettiva che è connessa iniziano a guardarti un po come uno fuori di testa cioè credono a qualunque cosa venga offerta da un sistema dai mass media dai loro influencer sì è vero che questa cosa si vede come risultato io adesso manda un messaggio a new york ad un amico e lo riceve ma se uno non fa l'esperimento di creare un po di vuoto mentale di creare un po di presenza cioè innalzare il livello energetico della sua coscienza e presenza se non fa questo esperimento quindi sarebbe un po come dire se uno non compra un cellulare non prova a comprarlo almeno è certo che non riuscirà mai a verificare se effettivamente c'è una sorta di rete una no sfera una sfera del pensiero che è connessa che dal mio punto di vista oltretutto è anche la spiegazione di tutta una serie di fenomeni che oggi vengono messi nella parapsicologia o nella menzogna sostanzialmente nel nell'inganno lettura del pensiero capacità di influenzare le persone attraverso l'energia del pensiero attraverso io direi l'energia della coscienza peccato poi che in alcuni casi mentre il nostro sistema dice che tutto ciò è falso lo stesso sistema in alcuni casi ha fatto delle cose assurde credendo pienamente a questa cosa vi faccio l'esempio di ricordate charles manson quel soggettino americano mi pare che lavorasse nella zona californiana forse charles manson aveva la sua comune una specie di comunità e poi è stato ritenuto responsabile di alcuni omicidi mandante almeno di alcuni omicidi importanti anche quando è stato portato a processo se non vado errando l'hanno messo in una posizione praticamente come quando eravamo piccoli che quando facevamo i birichini ci giravano verso il muro ci mettevano all'angolo a volte capitava ancora almeno quando io ero piccolo vai là e stai all'angolo dietro la lavagna ecco l'hanno messo girato contro il muro in modo che non guardasse i giurati il giudice gli avvocati perché influenzava con la sua presenza la giuria e le persone presenti ora un sistema che dalla mattina alla sera ti dice che non c'è nulla attraverso oltre quel che ti dice come materia poi per ogni tanto guardate è terrorizzato dalla forza della coscienza di alcuni soggetti ovviamente tutto ciò mi sembra abbastanza ridicolo cioè o meglio va a provare quanto il dire credo non credo sia basato sul nulla perché poi quando arriva la prova la paura che magari qualcuno effettivamente ha una certa forza vedi che è la loro scienza sparisce le loro convenzioni che tanto scientifiche non sono spariscono allora io dico più entriamo in noi stessi e più vediamo che c'è una trasmissione tanto più vicini si è e più potente è questa trasmissione alcune persone che hanno una maggiore capacità di trasmissione anche ad una distanza maggiore riescono a comunicare e inviare delle intanto un'energia e anche delle informazioni su questi aspetti si potrebbero aprire lunghe interessantissime discussioni anche di alcune testimonianze documenti del passato di alcune civiltà di quel che ci risulta fosse il loro modo di comunicare ovviamente a scuola non ce le fanno studiare appena si si abbozza un discorso del genere sì ma sono solo leggende va bene io dico però quante persone lavorano per creare una mente gestita dalla loro consapevolezza una mente silente un'energia una centratura e quindi poter verificare che tipo di influenza possono avere che tipo di informazioni riescono a ricevere aumentando il livello di sensibilità e percezione della coscienza quante persone fanno questo lavoro pochissime allora io inviterei i giovani meno giovani a capire che se una cosa non è stata sperimentata non la si può negare che è un po come dire il fuoco non brucia perché non mi sono mai scottato ecco lì è vero potrei prendere un tizione ardente e dargli una bella scottatura alla persona che dice questa cosa ma il lavoro spirituale interno non può essere imposto e questa è la cosa può essere stimolato puoi provare a sedurre una persona verso un certo cammino verso certe scoperte ma non lo può imporre questa è anche la sua meraviglia perché il nostro spazio interiore è inviolabile ora se la coscienza è un unico fenomeno e io dico che è un unico fenomeno la trasmissione della nostra mente funziona come una sorta di televisore continuamente anzi è una stazione radio noi non abbiamo più persone che inviano pensieri di compassione inviti alla pace ma abbiamo persone come ho detto prima che stanno lì barcollando tra la rimozione totale andrà tutto bene facendo cose estremamente di piacere per scappare dal momento e persone che magari si caricano di rabbia la trasmissione che viene data va ad aumentare i punti di fuoco dove effettivamente ci sono delle esplosioni è abbastanza intuibile anche per quello tradizioni millenarie spirituali hanno sempre invitato alla trasmissione di energie positive di pensieri positivi e alla purificazione di questa sorta di antenna cuore mente come antenne perdere queste cose è veramente tristissimo ad esempio l'altro giorno e chiudo stavo facendo la mia solita passeggiatina al cimitero della mia città arrivano quelli delle pompe funebri arriva il prete vestito non da prete sembrava vestito da uno appena uscito dal bar quelli delle pompe funebri dicono quando è che iniziamo la celebrazione una cosa del genere il prete fa no no non facciamo niente sono vogliono è un momento laico ha detto è una cosa del non facciamo niente allora mi veniva anche da dire che ci fai tu qui vestito anche proprio così circa ora non una benedizione non un momento di raccoglimento cioè ma ci stanno proprio sulle palle i nostri cari le persone morte perché com'è che abbiamo deciso neanche ipotizziamo l'idea che ci sia una continuazione di un nucleo energetico una volta chiamato anima oggi lo possiamo dire un nucleo di coscienza il corpo causale zero questa persona muore vai lì frigni piangi forse se ti interessa qualcosa e poi te ne vai ci stiamo avvicinando alla festa dei morti sono tradizioni millenarie millenarie l'accompagnamento dei morti il ricordo dei morti la celebrazione dei morti ad esempio il bardo tibetano proprio una scienza di come far andare l'anima nello spazio di passaggio l'aver schiantato tutto ciò negato tutto ciò che mi ricordo un po anche l'aver sostituito l'acqua l'acqua santa con il gel disinfettante io credo no sono certo ma che è un danno incredibile e deve essere ripristinata questa saggezza questa conoscenza ma come fai a ripristinarla intanto invitando le persone a divenire diretti sperimentatori di piani più profondi della coscienza allora basta invitarle a dire vedi quanto la tua mente è frammentata persa in troppe cose che poi aumentano il livello di ansia tensione paura come dice qui l'amica depressione sfiducia eccetera prova a raccoglierti un pochino un po alla volta e genera maggiore silenzio e lascia là nella periferia tutti questi contenuti che in realtà avvelenano dai sempre maggiore spazio tempo ed energia a questa centratura lo vuoi fare vedrai che si aprono delle porte di comprensione di saggezza di intuizione e inizierai a percepire in maniera intuitiva che intanto la coscienza è un unico fenomeno e tutta la comunicazione è intrecciata due il valore chiamiamo la preghiera chiamiamolo il valore di un di una comunicazione profonda pacifica e amorevole proprio magari nei momenti più difficili tre il valore dell'accompagnamento della benedizione delle preghiere per i defunti perché c'è di nuovo una trasmissione di energia positiva a quell'elemento energetico che si è slegato dal corpo e sta continuando il suo viaggio perdonare una persona perdonare un genitore che è morto e magari ci portiamo dentro sofferenza o perché ci ha fatto del male o magari pensiamo di non aver fatto abbastanza liberarci da questa sofferenza significa sciogliere un nodo che ci connette in forma pesante alla coscienza che io sono e la coscienza che è l'altra persona che sì in un sostrato molto più profondo sono connessi ad un'unica centrale energetica come abbiamo detto in altri momenti spiegando meglio questo fenomeno ma nella parte superficiale se noi non andiamo a risolvere questi intrecci rimangono dei punti di connessione che ci tengono in una sorta di tensione vi ricordate avevamo fatto l'esempio delle lampadine due lampadine arriva l'energia dalla centrale elettrica le due lampadine si vedono io e voi se fossimo in presenza se io svito la lampadina o la rompo la centrale elettrica continua a mandare l'elettricità su quel punto ma non c'è la lampadina ok persona in un certo senso diciamo spenta cambio la lampadina ritorna alla luce queste comunicazioni superficiali acceso spento se noi non le risolviamo se non portiamo pace anche se la lampadina diciamo è spenta e una è accesa proprio perché una è accesa e continua a pensare all'altra defunta teoricamente rimane una sorta di connessione di ponte e questa lampadina non permette ma nemmeno a noi è permessa una crescita e uno scioglimento questo su un piano superficiale se seguiamo questa metafora è vero che da un piano profondo siamo un'unica cosa però per riuscire a realizzare questa cosa ci dobbiamo convertire cioè la lampadina deve cambiare il suo punto energetico non tutta estroversa ma iniziare a vedere che la sorgente della sua coscienza è l'assoluto l'uno avrebbe detto platone la sostanza spinoziana è un processo di osservazione della dell'essenza che noi siamo queste competenze una volta erano normali non avevano forse il 5g ma magari avevano la trasmissione del pensiero la telepatia normali cioè non adesso sto dicendo cose che per alcuni magari sono cose da da persone andate un po fuori di testa ribadisco ma chi risponde no non è vero non c'è nessuna possibilità di intanto di sopravvivere alla morte del corpo di connettere e di passarci influenza di pensieri ma l'hai fatto l'esperimento no di solito no perché sono persone che non sono state un minuto tranquilline e allora come puoi negare qualcosa che non provi non è un atto di fede intesa come viene intesa dentro un certo cristianesimo che è stato funzionale a rendere le persone in realtà non più credenti è un invito alla sperimentazione prova e vedi cosa è certo che però fare questa sperimentazione per un certo tempo ti tiene impegnato stiamo parlando di conoscere i meccanismi della mente l'essenza della vita può essere una cosa che mi metto là cinque minuti ho fatto il pirla 30 anni 50 anni adesso in un minuto torno e ti dico non ha funzionato e certo hai attivato un macinino mentale un'agitazione un'estroversione un attaccamento alle cose che adesso ha bisogno di un tot di lavoro però è intuibile è intuibile noi dobbiamo secondo me crescere i ragazzi con questo desiderio di conoscersi in profondità e sperimentare e non chiudergli tutte le porte attraverso in realtà dogmi idiozie c'è solo la materia ormai neanche la materia c'è solo il cellulare e stare dentro l'intrattenimento non si occupano nemmeno di quel che accade nel mondo non conoscono i meccanismi un po più complessi ma poi anche noi adulti cioè non solo i ragazzi anche perché i ragazzi come dico sempre è difficile insegnare qualcosa se tu non hai fatto un po di quella sperimentazione lì che poi al di là della trasmissione del pensiero l'immortalità dell'anima e pipopà cioè io dico solo sviluppare un po più di centratura aumentare il livello di silenzio interiore e già iniziamo a vedere il mondo sotto un'altra prospettiva e quindi a quel punto senti che non c'è più tanta depressione ci può essere pietas compassione profondo dolore nel vedere migliaia di persone milioni adesso vogliono spostare mezza gazza da una parte all'altra come se io vi ricordate in altri momenti in questi spazi abbiamo approfondito il fatto che più sei centrato non è che meno senti le cose soprattutto il dolore la stupidità del mondo ma non perdi un certo equilibrio e non perdi la capacità di essere in una sorta di pace cioè tu puoi essere in pace anche se comunque senti l'idiozia e la sofferenza e il dolore giusto è una forma di quiete interiore non sei lì a rilavorare rimuginare su te stesso o mio dio cosa mi succederà no non te ne frega niente tu sei in pace però c'è questa sorta di compassione sofferenza sì però nessuno di noi credo voglia divenire una specie di ebete che non sente non capisce niente sta in quella pace quel appunto come l'amica qua dice non posso godere sono d'accordo in questo momento godere e godere è una fase dove tutto sommato c'è una certa quiete anche esterna e ti viene più facile quella sorta di ilarità molto anche per certi versi superficiale che è bella ma in alcuni momenti di grande pesantezza è quasi dissonante però questo è il godere la superficialità l'ilarità un po' superficiale che hanno il loro valore ma ma per quanto riguarda la serenità la pace l'affetto ecco nulla di quel che accade intorno noi dovrebbe essere giustificazione per perdere queste cose altrimenti male all'esterno male all'interno ed ecco che creiamo com'è che la chiamano e gregora dentro un certo mondo ma è semplicemente stiamo dando energia a un'entità devastante distruttiva nei vangeli questa cosa è spiegata con una piccola frase così che dice non resistere al male che cosa vuol dire cioè gli spiegassero i vangeli non resistere al male significa che non mi devo mettere in contrapposizione se io mi metto in contrapposizione ad un qualcosa di negativo generano negatività certo se uno mi aggredisce fisicamente cerco di scappare o difendermi o di disattivarlo qua stiamo parlando proprio di influenze psicologiche mentali emotive l'informazione che abbiamo è tutta male che arriva non resistergli smaschera ciò che è falso ma poi non entrare in una sorta di resistenza non farti contaminare vai ad alimentare aumentare la quiete la luce l'affetto si più dolce si più affettuoso a casa proprio perché fuori c'è la follia prova a costruire maggiori relazioni creative funzionali proprio perché il mondo è disfunzionale secondo me è una strada talmente semplice intuitiva e efficace che ne vale la pena insomma bene io spero di aver risposto alla domanda dell'amica almeno dal mio punto di vista di aver dato degli suggerimenti degli spunti di indagine di riflessione e quindi qui mi fermerei lascio spazio a voi se volete dire qualcosa se volete alzare la manina se ci sono delle domande o degli approfondimenti rispetto a quel che ho detto e poi vi ricordo che sì magari interventi brevi e utili per tutti ivana apriamo il microfono allora ti ho aperto il microfono vi ricordo che voi dovete aprire il microfono sotto sotto c'è un microfonino che se lo premete il disegno del microfono diventa verde ok ti apri il microfono vai secondo me ce la facciamo ecco ma sì 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 vai fatta ti sento anch'io buona buonasera a tutti purtroppo mi sono collegato un po' in ritardo ma la mia domanda è a parte che condivido le tue idee e quello che stai dicendo quindi parto da questa e vorrei sapere se per caso hai dato qualche suggerimento nel senso come andare verso questa pace sicuramente l'avrei già detto tante volte questa pace interiore che anch'io cerco sempre ma sono talmente presa dalla quotidianità della vita che non riesco ecco questa è la mia domanda ok ok grazie mille ti metto in pausa in silenzio allora beh a parte che invito sempre a vedere nella playlist di youtube tutti i video sono divisi per categoria c'è la categoria meditazione e lì si trovano tantissimi miei video alcuni proprio sono di sintesi forse dovrei magari troverò il modo di fare una raccolta detta qui fra noi in maniera rapida io credo che sia fondamentale iniziare a fare un forellino nella diga sappiamo che anche la diga più grande che ci sia se riusciamo a fargli un forellino dopo ci mettiamo lì calmini e un po' alla volta l'acqua fa il lavoro però dobbiamo fare un forellino cioè partire da cose molto piccole se vogliamo i grandi cambiamenti le cose le svolte intanto sono dettate dalla dalla voglia di fuggire il voler cambiare di colpo la nostra vita che non è non ci stiamo bene e io dico occhio perché un cambiamento accade quando la osserviamo e la comprendiamo non quando fuggiamo allora quando iniziamo a volerla comprendere la vita noi stessi come stiamo in relazione con le cose accettiamo ciò che c'è perché lo vogliamo vedere quindi andiamo molto calmi c'è un senso di pazienza cioè ecco io direi che alcune virtù necessarie almeno sviluppare anche queste partendo dal piccolo ma pazienza calma non voler i grandi cambiamenti io vedo addirittura vedo pubblicità strane la terapia in tre incontri che cosa fai un esorcismo praticamente oppure il gruppo meditativo le tre ore che ti stravolgono la vita vabbè se uno vuole andare poi di solito costano anche un macello ecco io direi che come tutti i processi di trasformazione di cura hanno un certo necessitano di un certo tempo pazienza e iniziare dal molto piccolo cosa significa poi in pratica dato che ciò che più interferisce con la nostra possibilità di essere quieti e di armonizzarci con la vita è il continuo bombardamento l'estroversione per quello dico la conversione è importante intesa in questo senso cioè devo riportare l'energia nella quiete profonda della coscienza adesso metaforicamente è come se fossimo sul pelo dell'acqua e soffia il vento e ci sono le onde tutto agitato se tu vai in profondità c'è quiete allora tutto ciò che è periferico soprattutto quando abbiamo una vita che corre molto veloce e informazioni deliranti magari persone anche intorno a noi perché non c'è solo ciò che fa il governo le grandi guerre ma i rompiballe sono ovunque in sostanza intorno a noi magari qualcuno che ci metta la prova che ci infastidisce l'increspatura l'acqua si agita si increspa allora cerchiamo un momento durante la giornata partiamo dal piccolo per raccoglierci e cercare di distendere il corpo e la mente sia come ho detto molte volte per chi riesce per chi sente che gli viene più facile più naturale il sedersi e stare in un posto tranquillo seduti su una sedia gambe incrociate cioè non è che serve fare il il guru dentro la montagna magari uno ha male le ginocchia non è che deve incrociare le ginocchia dopo ci sono degli aspetti non essenziali del perché in meditazione ci si mette a gambe incrociate eccetera comunque no 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 la nostra pace non verrà bloccata dal fatto che non abbiamo le gambe incrociate ti siedi in un posto chiudi gli occhi ascolti il respiro e rimani lì cinque minuti cercando di lasciare i pensieri che entrino ed escono come uccellini in una stanza con le finestre aperte non li può impedire non gli può impedire di entrare però puoi evitare di aggrapparti agli uccellini o di chiudere le finestre piccolo forellino cinque minuti quieti a casa in uno spazio tranquillo oppure in movimento perché ci sono persone che mi vanno via di testa se stanno cinque minuti se cinque minuti iniziano ad avere un'agitazione che ti vogliono strozzare a te e alla meditazione l'importante è creare rilassamento cioè io direi che il segreto del segreto dei segreti pensate che segreto è il rilassamento cioè le persone sono completamente tese e non sanno più come sciogliersi dalla tensione quindi se il segreto è il rilassamento magari una persona passeggiando lungo la pista ciclabile riesce a o correndo o andando in bici o andando a nuotare riesce a sentire questo senso di scaricamento e di quiete però c'è una cosa che accomuna tutte queste attività se no come molti mi dicono dicono vai io vado a nuotare tutti i giorni non è che sono in pace o sento l'unità con l'universo sì ho capito ma dipende se tu imposti diciamo lasciatemi usare questo termine comprende il giusto atteggiamento mentale attraverso cui fare queste cose perché capite se io vado a fare un'ora e mezza di nuoto per farmi due spalle così e uscire la sera andare in discoteca e beccare le fanciulle nella mia testa probabilmente sono lì poi li vedi che escono sono in palestra sono lì a guardarsi uomini donne cioè nella testa non è che hai l'idea di lasciascorrere i pensieri ascoltare il respiro l'acqua cioè iniziare a scioglierti stai solo scaricando una tensione magari sei molto focalizzato vuoi fare un sacco di muscoli oppure vuoi fare gare uno vuole gareggiare cioè la mente non è in quella non ha fatto quel click quel cambio di focalizzazione c'è proprio da focalizzata verso un obiettivo a click sempre più sciolta in un riassorbimento dell'energia in una conversione cioè ritorna sempre più alle profondità quiete del lago è questo click che va capito che dopo ad una persona funzioni stando cinque minuti a casa seduta in un posto a volte alcuni mettono un mantra una musica che riesce a rilassare però anche qua dico ne parleremo ne abbiamo parlato già altre volte ma un conto è mettere un mantra che ha dei suoni delle parole che hanno millenni di storia un conto è mettersi che ne so vasco rossi nelle orecchie cioè puoi uscire solo cioè ci sono delle piccole cose che devono essere tenute in armonia col significato di ciò che facciamo proprio perché come dicevo prima se ogni cosa ha una trasmissione un significato un valore una sua dimensione di energia non posso andare a correre con i maneschi nelle orecchie e dire beh però io vado a far meditazione no tu vai a correre può essere utile al corpo ma non stai facendo questo lavoro che all'inizio è anche faticoso non so se ci avete provato ma stare nel presente correndo meditando da fermi c'è quella che diciamo meditazione attiva o passiva stare nel presente lasciare che la mente scorra e non ci agganci è faticoso per quello dico un minuto due minuti se riusciamo a sentire che abbiamo si sente questo click a ero presente camminavo correvo meditavo seduto e c'era silenzio anche se la mente faceva i suoi lavori parlottava però senti che tu eri l'occhio del ciclone non dentro il vortice poi lo subito e fare questo click all'inizio non è così semplice poi è tutto un giochino come andare a pesca cioè stai cercando di pescare una specie di squalo bianco lo agganci poi tira come un pazzo devi mollare dopo un po si sfianca devi riprendere e questa cosa a volte va avanti tanto tempo generando piccoli cambiamenti però la senti sempre più potente piccoli cambiamenti ma ti rendi conto che sono inamovibili piccoli ma per sempre con te perché stai generando te stesso in un certo senso allora questo questo pescare cioè la mente ti aggancia e ti porta in giro riesci a sganciarla e torni indietro è faticoso e molte volte è noioso ci sono delle fasi di noia però se si è entrati dentro una certa comprensione si capisce che quella specie di pesce di squalo se non iniziamo a gestirlo in questo modo e a scioglierlo ci continuerà a rovinare la vita va bene vi invito a guardare anche la playlist su youtube dove ci sono molti video vedo la mano di davide che è alzata quindi riproviamo ti ho aperto il microfono e c'è il pulsantino che devi premere tu il buon marco allora davide ti metto in silenzioso marco aperto il microfono sì ciao ciao per luigi buonasera buonasera a tutti niente io volevo solo dirti che un consiglio è quello di uscire dalla chat e poi rientrare a volte si resetta e quindi se ci sono problemi di audio o di microfono che però tra l'altro chiedo scusa ma per luigi io questo davide nella mia lista non lo vedo e da me c'è ed è fisso con la manina alzata anche adesso lo vedo davide e non so se perché la lista che ho io la vedi anche tu uguale teoricamente dovrebbe essere così ok e allora io ce l'ho qua è sempre con la manina alzata ma non riesco a sentirlo però bisognerebbe che lui uscisse e rientrasse e di solito si si ok ok si si riassetta diciamo così da solo è l'unico consiglio che in questi casi posso posso darti volevo chiederti ma non sei in registrazione questa sera no non sono in registrazione con telegram ma sto registrando con gli altri sistemi quindi ah ho capito ho capito sì perché mi viene fuori il video cioè la qualità video e audio è più stabile allora uso vabbè va bene ecco volevo solamente intervenire per questo poi per il resto sai com'è Pierluigi noi ci troviamo tante volte anche ad affrontare magari da due punti di vista un po' lo stesso tema sai che noi come laboratorio del lavoro ci occupiamo di fondamentalmente neoliberismo che non è solamente qualcosa che ha a che fare con la politica o l'economia e la finanza ma ci sono dei collegamenti rispetto a questa chiamiamola così disciplina capitalista mettiamola così questo sistema che tocca l'anima cioè non è più il materiale del capitale ma ci tocca il nostro capitale umano come esseri sensibili e da lì si apre un universo di di valutazioni che appunto stiamo cercando di arraffare un qualcosa in questa bomba atomica che ci è capitata in questi ultimi decenni ecco la chiudo qui assolutamente tanto grazie Marco che per fortuna a te ti sento sempre che funziona il microfono e sì no ma a parte che fai un lavoro ottimo nel tuo spazio ed è fondamentale trattare le cose anche un po' ci provo che io il giovedì quando faccio la rubrica sui fatti che accadono una settimana d'ordinaria follia ecco appunto potremmo dire che nel mio caso continuo la rubrica del giovedì perché un minimo di informazione secondo me è necessaria però non ci dobbiamo sprofondare dentro l'informazione ma deve essere utilizzata a vantaggio nostro cioè capire che cosa più o meno sta accadendo o cosa ci può cadere in testa e spostarci molti di noi a volte lo sento anch'io veniamo appesantiti dall'eccesso di informazione inutile perché a un certo punto hai capito e diventa un po' una specie come ho detto prima di droga che senti quella tensione quella specie di elemento di paura e vuoi andare a vedere oh mio dio chissà cosa è successo adesso ecco quella cosa lì secondo me dobbiamo sganciarla perché non serve assolutamente a niente quindi magari è bene darsi nella settimana nella giornata vabbè io un po' lo faccio anche per lavoro quindi nella giornata mi do quella mezz'ora dove vado a rivedere tutte le informazioni approfondire eccetera poi magari mi ruba un po' più di tempo però se uno non lo fa per lavoro secondo me quando fa una sintesi una volta alla settimana di quel che è accaduto direi che è più che sufficiente come diceva Marco analizzare il neoliberismo i processi selvaggi del capitale da un punto di vista anche che che è connesso con la dimensione filosofica dell'essenza della coscienza più profonda tutto ciò è connesso tanto più dopo quello che abbiamo detto prima cioè se la coscienza è un unico fenomeno non c'è non ci può essere qualcosa che non è connesso non ha un valore un significato è vera una cosa però secondo me io cerco un po' di fare una sintesi e per quello che probabilmente ci troviamo e Marco tocca aspetti che tratto io qui secondo me è importante tenere una riflessione a 360 gradi perché ad esempio non so se avete visto alcuni guri come diceva un mio amico prendendoli un po' in giro cioè alcuni personaggi che si occupano magari unicamente di meditazione di spiritualità e sono anche diventati molto famosi influenti allora c'è stato il covid e non hanno avuto il coraggio di dire mezza parola c'è la guerra non hanno detto mezza parola ricordo un po' anche Bergoglio adesso c'è la guerra in c'è una guerra tremenda in ucraina in donbass in ucraina in donbass e e a gaza sostanzialmente o comunque nei territori israelo palestinesi mi sembra che negli ultimi giorni sia più nei territori palestinesi cioè io non ho sentito un invito potente a raccogliersi in preghiera a fare un lavoro interiore a risvegliare le persone all'idea che la pace interiore è capace di generare pace allora rimango veramente sconcertato dal vedere come alcune persone si occupino o dicano di occuparsi di spiritualità e staccano completamente l'esistenza del mondo pratico dei grandi avvenimenti dei macro avvenimenti anzi un po' devo dire una cosa alcuni di questi hanno proprio invitato magari avessero staccato completamente alcuni di questi hanno addirittura invitato a fare delle cose che dal punto mio di vista erano antidemocratiche in liberali ed ecco qui l'elemento dell'analisi del neoliberismo del capitale le corporation che cosa fanno un minimo un minimo lo si deve sapere c'è un guru lì in india che adesso viene in italia e prende più 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 fedeli lui di bergoglio ha invitato a fare tutte le inoculazioni di questo mondo cioè ma dico ma almeno stessi zitto allora quando c'è la guerra e non è il caso di parlare stanno zitti quando c'è una cosa e gli conviene parlare allora si occupano di cose sociali e politiche cioè dopo è vera anche una cosa se una persona ha milioni di followers viene chiamato al world economic forum viene chiamato a dex dex come si chiama lì quel beh effettivamente non penso che possa essere così un soggetto contro libero non è che bisogna essere contro per forza qualcosa però onestamente cioè se i più grandi poteri del mondo ti chiamano e ti stendono il tappetino rosso ma forse non è che tu faccia una grande analisi a favore delle grandi masse che sostanzialmente sono utilizzate quindi tenere un certo occhio e competenze e riflessione anche su quella che è una dimensione per certi versi io dico più periferica se tu la guardi da un'introspezione profonda ma da un altro lato è una dimensione estremamente concreta e vicinissima quindi devono essere tenute in connessione vabbè questo discorso sarebbe lungo mi viene anche in mente alcuni mi hanno scritto ah ci sono pagliacci oggi come il pagliaccio di osho una cosa su osho perché dobbiamo stare un attimo mi va di spezzare questa lancia a favore di quel pazzerello osho l'hanno ammazzato e tutto il potere del tempo lo voleva fare fuori osho ha mandato in malora tutto il sistema del tempo dopo la sua comune ha avuto deliri problemi disastri ok ma non possiamo una cosa non la possiamo fare non possiamo accomunare da un punto di vista di relazione con il potere e i sistemi osho a quelli che ci sono oggi un'altra persona che non può assolutamente secondo me essere annoverata cioè messa a confronto è una persona come Krishnamurti che ha demolito completamente ogni forma di potere di organizzazione compreso il suo stesso gruppo la sua organizzazione vi ricordate che abbiamo fatto un lungo video sullo scioglimento della stella della stella d'oriente che era la società che avevano che sostanzialmente che gli avevano dato da gestire ed era una potenza il primo giorno che l'ha avuta in gestione l'ha sciolta quindi alcuni mi hanno scritto in questi mesi perché ho citato una volta Osho Krishnamurti sapete che per me è un autore fondamentale allora qualcuno mi ha scritto ecco sì personaggini simili a quelli di oggi che in realtà sono funzionali al sistema eh no guardate che dovete andare ad approfondire certe cose cioè non so quanto avete approfondito dico a queste persone prima di sparare sentenze perché magari qualcuno che mi chieda mi consiglio un libro potrei approfondire magari anche leggere un po' la storia di Osho ce l'hanno ammazzato a un certo punto girava su un aereo non poteva più atterrare in nessun paese di tutto il mondo occidentale perché gli Stati Uniti avevano dato mandato proprio di cacciarlo pensate un omino piccolo che casino che aveva combinato è dovuto tornare in India quindi non nego i problemi che ha avuto e l'incompetenza su alcune cose però diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Osho quel che è di Osho voglio dire Krishnamurti peggio che ancora cioè dire che Krishnamurti alla fin fine perché ha parlato una volta una persona mi ha scritto mi ha detto Krishnamurti ha parlato alle Nazioni Unite e cosa vuol dire? se l'hanno invitato che cosa doveva fare? infatti ha parlato l'hanno mandato via non si è più visto in più c'è da dire che le Nazioni Unite del 1960-70 non è certo il luogo di oggi perché se voi andate a rivedere l'intervento di Krishnamurti alle Nazioni Unite del tempo oggi non lo potrebbe fare come tante cose che si potevano fare intorno al 2000 anche nel 2001 vi ricordate che c'era come si chiamava? no si chiama ancora vivo Mentana aveva un un programma che si chiamava Matrix mi pare aveva invitato Mazzucco a parlare delle torri gemelle quindi secondo me non avevano ancora capito l'aria che tirava non erano ancora arrivati i chiari diktat e dogmi quindi pensavano di poter ancora parlare di certe cose e lo facevano dopo si sono ben aggiustati nel tiro e hanno capito quindi oggi ad oggi un'infinità di cose che accadevano negli anni 80-90 e anche primi 2000 non esistono più e c'era una manina alzata di Ale qualcosa mi pare io ho finito quindi chiudo a Davide e Mauri apriamo il microfono a Mauri ti ho aperto il microfono si grazie per Luigi spero che questa volta mi senti o riesca a sentirmi come gli altri perfetto allora sarò brevissimo e tanto devo dire che condivido ovviamente insomma anche no alcune volte ma in questo caso sono d'accordo su quello che hai detto volevo aggiungere un aspetto che un po' emerge da quello che hai detto è che per riuscire a conciliarsi con questo mondo bisogna trovare un momento per distaccarsi dal mondo quello che tu dicevi si va a correre si va a nuotare si va a camminare si va nel bosco però il gesto fisico se non è accompagnato insomma dall'apprezzamento di quello che si fa dalla natura per esempio tu sai che io sono molto attratto da tutto ciò che rappresenta l'ambiente come termini di riequilibrio di dimensionamento beh non serve a nulla quindi si può fare secondo me meditazione in mille modi ognuno ha poi un proprio approccio soggettivo alla meditazione però bisogna trovare la forza e il momento per salire un attimo e vedere il mondo un po' distaccati a quel punto forse se si trova nelle condizioni giuste si riesce ad assaporare anche il piacere della vita in tutti i suoi aspetti positivi e negativi ecco volevo soltanto dire questo secondo me è molto importante il dimensionamento che poi comunque tu l'hai anche detto molto bene tutto qua no sai cosa dimmi dimmi sì ora io ritengo sempre molto importante dialogare sentire anche quello che dicono gli altri soprattutto quello che dicono gli altri perché nel mio spettro percettivo posso arrivare fino a un certo punto magari non riesco a capire e non riesco a concepire quello che magari mi viene detto da altri quindi ben venga tutto questo grande discorso su come sopravvivere agli eventi alle cose alle manipolazioni a ciò che sembra un po' arrivare dall'alto quindi di fronte a quale non poterci fare nulla tutto questo si riconduce un po' a una domanda che ho posto nel mio prossimo incontro che facciamo giovedì sera che guarda caso parla di libertà o fatto e se arrivare a una sorta di comprensione per riscattarsi o comunque per sopravvivere attraverso un concetto di autodeterminazione di di scelta ecco noi siamo ancora in grado di fare delle scelte questa è un po' la domanda che secondo me si riallaccia anche a ciò che tu hai detto questa sera si fai una ti puoi spiegare sai come dato che poi questo penso integrale almeno fino a qua lo pubblicherò anche su youtube telegram e facebook se spieghi a chi ci segue dove vederti giovedì giusto si certo si giovedì dunque l'ambiente Zero Village Deep Bacchega Libera è un ambiente virtuale ovviamente dove ci si incontra e si dialoga con invitati ma praticamente tutte le persone che vogliono dire a parte qualche introduzione iniziale adesso ho voluto dare un po' un trend un po' diverso cioè senza invitati ufficiali ovviamente Pierluigi tu sei sempre diciamo accolto a braccia aperte se avessi tempo di partecipare perché voglio che chiunque partecipi possa comunicare il suo sentire sull'argomento senza dotte introduzioni lascerò la parola a chi vorrà dire ed è diciamo vuole essere un po' un tentativo di un approccio dialogante nuovo ok Telegram ovviamente lo spazio è su Telegram giusto su Telegram si casomai ti mando la locandina se poi avrai spazio magari anche nella chat per chi vorrà partecipare se dici l'indirizzo esatto che poi magari lo monto anche nel video che è t.me slash si Zero Village semplice la locandina è pubblicata già nel canale pubblico d'ingresso che è Zero Village lo potete trovare con il criterio della ricerca entrate lì trovate la locandina con il link di partecipazione cliccate entrate e salite dentro tutto qua perfetto grazie Mauri ci vediamo presto grazie a te ciao 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 ragazzi io vi saluto a questo punto ne abbiamo fatto abbastanza di sperimentazioni di contatti con l'aldilà visto che ormai parlare qui su Telegram è riuscire a beccarci la linea è quasi veramente da contattisti ci vediamo come sempre un po' per riflettere e provare un po' a ridere giovedì mattina con una settimana d'ordinaria follia poi vi ricordo la rubrica del sabato mattina 5 minuti oltre le nuvole vi mando un carissimo abbraccio grazie a tutti per la partecipazione e in molteplici tentativi di contattarci e vedere se funziona la comunicazione in diretta un abbraccio a tutti e buona serata ciao ciao ciao